Paura sulla tangenziale est, dove un bus del servizio pubblico è andato completamente a fuoco, generando un'enorme colonna di fumo nero. Il mezzo procedeva in direzione nomentana quando le fiamme, sulla cui origine si sta ancora cercando di fare luce, lo hanno avvolto appena prima di imboccare il tunnel all'altezza della Tiburtina. Al momento non si hanno ancora notizie di feriti, il tratto di strada però è stato chiuso e il traffico è in tilt.